Buonasera a tutti carissimi cinefili e carissimi cinefili, ben ritrovati in questo nuovo video. Dunque, oggi voglio parlarvi dell'ultimo film che sono andato a vedere, giusto appunto ieri al cinema, è il film intitolato Stanlio e Olio, di John Baird, ed è appunto il film biografico, storico, drammatico, dedicato a quella che forse è la coppia comica più famosa dell'intera storia del cinema. Premetto che farò qualche spoiler, quindi se ancora non avete visto il film in questione, tornate in un secondo momento. Dunque, film dedicato a Stanlio e Olio, film che veramente attendevo con grande curiosità. Quando vedi il trailer subito mi interessò tantissimo vedere questo biopic realizzato a questi personaggi straordinari che insomma li ho sempre visti nei loro sketch quando venivano trasmessi di continuo alla televisione ed ero veramente incuriosito anche dalla scelta degli attori che era stata fatta. Credo che il casting di questo film sia uno dei punti di forza della pellicola e devo dire che la scelta di mettere nei panni di Stan Laurel, l'attore Steve Kogan e nella parte di Oliver Hardy e John C. Reilly, credo che queste siano state delle scelte semplicemente azzeccate. Molto bravi gli attori che tra l'altro sono stati truccati in una maniera perfetta soprattutto John C. Reilly è veramente Oliver Hardy re di vivo ci sono veramente delle movenze, delle espressioni e sguardi che sembra proprio di vedere il vero Hardy in scena e qui c'è il lavoro ovviamente di un grande attore ma molto brave anche sono state le attrici perché in realtà questo è un film dove anche il ruolo delle consorti dei due comici sono dei ruoli importanti in realtà che vanno ad amplificare sia gli aspetti positivi ma anche i conflitti le tensioni latenti che finiscono un po' per inquinare o comunque per incrinare nuovamente un'amicizia che è durata non so quanti anni ma insomma decenni e quindi il film è una storia di amicizia una storia di amore per il mondo dello spettacolo una storia di comicità dove vediamo come i loro personaggi in realtà siano veramente legati all'essenza stessa delle persone almeno questa è la rappresentazione che dà il film i personaggi di Stanley Olio sono personaggi che prendono molto dalle persone reali le quali anche involontariamente risultavano comiche nella realtà quindi a me è piaciuto molto vedere come il film mostra queste due facce diciamo dei protagonisti cioè le persone reali e i loro personaggi che vengono messi in scena che in realtà non sono così separati non c'è una scissione netta fra queste due personalità fra queste due figure e tutto il film è senza dubbio un omaggio un atto di amore nei confronti di questa coppia è un film che non vuole edulcorare non vuole fare un'apologia perché comunque gli aspetti anche più sgradevoli del carattere di questi due personaggi sono aspetti che vengono mostrati non c'è la volontà di stemperare di addolcire la pillola no, ci sono dei difetti per esempio il vizio delle scommesse di Oliver Hardy che lo mette comunque in condizioni economiche non proprio rose oppure il carattere di Stan Laurel un carattere che a dispetto della sua immagine di tontolone, di sempliciotto che appunto caratterizza il suo famosissimo personaggio in realtà lui era una persona molto brillante aveva una grandissima creatività ma aveva anche un carattere molto deciso poco incline al compromesso e questo tendeva anche a fargli assumere degli atteggiamenti che tendevano a prevaricare l'interlocutore o comunque la persona che gli sta a fianco e infatti vediamo come proprio questo aspetto lo abbia portato ad una rottura definitiva con il produttore storico della coppia cioè Al Roche a un certo punto nel 1937 quando il film inizia il film inizialmente è ambientato negli anni 30 nel 1937 per la precisione in occasione della realizzazione di uno dei numerosi film prodotti da Al Roche Stan Laurel ha un diverbio l'ennesimo diverbio con il produttore e quello è il punto di rottura fra lui e la produzione Stan Laurel viene licenziato e questo però comporta anche un allontanamento da Oliver Hardy e questo episodio sarà quello che segnerà una ferita nella loro amicizia nel loro rapporto una ferita che poi dopo quando il film fa un balzo temporale in avanti nel 1953 quattro anni prima della morte di Hardy per Cancro vediamo appunto che ad un certo momento della storia nel corso del ricevimento questo evento che è stato un trauma per entrambi è stato un trauma per la loro amicizia riemerge prepotentemente e rischia ancora una volta di far deflagrare la coppia che però poi alla fine grazie al sincero sentimento di rispetto e di grandissimo affetto che li lega alla fine la coppia non si scioglierà e il finale del film è tutto sommato tutto sommato positivo anche se comunque un po' diciamo agrodolce e la storia insomma è questa qui è la storia delle loro difficoltà è una sorta di di viale del tramonto di canto del cigno questa loro tournée che loro mettono in piedi grazie anche ad un produttore che è il signor Bernard Delfont interpretato da un bravissimo secondo me Rufus Jones il quale riesce ad essere furbo ammaliante riesce ad essere un po' personaggio che inserisce ulteriori momenti di comicità anzi in certi casi è proprio lui la vera linea comica nonostante questo sia un film su Stanley Olio però il personaggio a cui è affidato diciamo in momenti un po' più leggeri di comicità è un altro ed è il produttore appunto dei due artisti che decidono appunto di fare una tournée nel Regno Unito per poter arrivare alla fine per riacquistare la notorietà e il successo ma soprattutto per poter a quel punto trovare i fondi per trovare il sostegno di un produttore di nome Miffin che deve appunto finanziare il progetto il nuovo progetto di di Laurel e Hardy ma soprattutto il progetto di Laurel al quale sta lavorando che è appunto il film su Robin Hood realizzato con protagonisti cioè Stanlio e Olio quello avrebbe dovuto essere il film che consentiva loro di ritornare in scena di ritornare nel mondo del cinema alla fine questa cosa non avverrà perché Miffin si ritira Laurel non sa bene come tirarsi fuori insomma si crea anche un po' una situazione di commedia degli equivoci ma alla fine di tutto questo percorso perché questa tournée è una sorta di reunion è un percorso di rinascita dell'amicizia fra i due personaggi alla fine non avranno la realizzazione del loro sogno cinematografico ma avranno la riconquista della loro amicizia quindi a tutti gli effetti questa tournée questa storia è un viaggio di formazione o meglio un viaggio di riformazione quindi è un momento in cui i personaggi fanno i conti con loro stessi fanno i conti con il loro passato con i loro sensi di colpa con le loro inadeguadezze con i loro problemi fisici fanno i conti con il tempo purtroppo questo lo vediamo non solo attraverso la mancanza di successo quantomeno inizialmente non c'è un grande successo di pubblico per questi per questi due personaggi poi grazie alla pubblicità e al loro immenso e inossidabile talento questo pubblico verrà riconquistato però il tempo purtroppo il tempo sta per scadere purtroppo il fisico non regge la volontà non regge la voglia di continuare a calcare le scene e infatti la fine è agrodolce per questo motivo perché sì la tournée viene portata a compimento alla fine i due si concedono un ultimo esilarante ma anche triste estruggente balletto e alla fine di questo insomma Hardy decide di ritirarsi definitivamente non ci saranno più esibizioni quindi cala il sipario sulla coppia e quindi un film che riesce a coniugare molto bene sia i momenti di commedia ce ne sono tanti si ride si ride di gusto si ride con grande affetto di questi personaggi o meglio con questi personaggi perché ad un certo punto si riderà con loro però ci sono anche momenti di grande riflessione di grande introspezione di veramente umana profondità non è un film banale non è assolutamente un film banale è un vero omaggio come dicevo prima a questa coppia è un biopic come si dovrebbe fare secondo me è curato nella recitazione è curato nella sceneggiatura è curato nella costruzione delle immagini il regista Beyerde questo è il primo film che io vedo di lui è un regista secondo me che ha veramente un grande talento già vediamo dall'inizio quando siamo nel 1937 e vediamo come la regia abbia un'idea abbia ben chiaro cosa significa costruire un quadro ma soprattutto abbiamo perfettamente inteso qual è l'idea del regista il regista non vuole porre lo spettatore davanti a Staglio e Olio non vuole far sì che lo spettatore sia parte del pubblico di Staglio e Olio no il regista vuole che lo spettatore stia dalla parte di Staglio e Olio e quindi i personaggi capiterà in diverse occasioni di vederli riprese di spalle vedremo quello che c'è davanti agli attori e quindi in realtà verranno svelate le quinte il backstage verranno inquadrate le ombre dei personaggi che in un certo senso rappresentano i personaggi del mondo dello spettacolo rappresentano ciò che lo spettatore vede nei film di Staglio e Olio vede in realtà delle ombre ma ciò che spinge la regia innanzitutto è vedere le persone vedere gli esseri umani la loro complessità non vederli come delle figure bidimensionali come sono appunto le ombre per esempio e a me è piaciuta moltissimo la prima inquadratura quando noi li vediamo appunto ripresi di spalle però c'è appunto un perfetto esempio di di quadro nel quadro di incorniciatura perché vediamo che i due personaggi stanno parlando e scherzano anche sui loro affanni sulle loro vicende familiari con le loro ex mogli problemi economici eccetera eccetera e vediamo però che loro si parlano si guardano ma vengono ripresi di spalle quindi per poter vedere i loro volti noi dobbiamo appunto osservare anche ai lati questi specchi che riflettono i i volti appunto dei dei personaggi che in quel momento stanno interloquendo quindi già questa è secondo me una bellissima un bellissimo modo di presentare i personaggi un bellissimo modo di costruire un'immagine e però poi da lì parte tutto questo piano sequenza fino all'arrivo sul set dove i due gireranno uno dei loro film e lì c'è una perfetta descrizione di cos'è la Hollywood degli anni 30 dell'epoca d'oro di che cosa sono questi due personaggi che stanno vivendo l'apice del loro successo e questo insomma questa costruzione bellissima che viene fatta di Hollywood questa bellissima presentazione che viene fatta dei personaggi e del mondo in cui in quel momento loro vivono e regiscono è una presentazione magnifica che un regista che sono un regista sapiente e che ha un grande occhio cinematografico può realizzare e poi la recitazione la colonna sonora molto molto bella molto toccante e la fotografia a me è piaciuta molto la fotografia di questo film soprattutto nel momento finale quando c'è l'ultimo balletto il canto del cigno di Stanley Olio lì la fotografia riesce a illuminare perfettamente la scena riesce soprattutto a illuminare il volto sofferente di Oliver Hardy Oliver Hardy purtroppo è quello che fra i due in questa fase dimostra di avere i maggiori problemi fisici dovuti al peso dovuti al cuore a varie cose e lui veramente stringe i denti per riuscire a portare a termine questa tournée per riuscire a portare a termine lo spettacolo e spesso si ritorna su questo concetto sul fatto che il mondo dello spettacolo comunque è un mondo che tende a essere disumano e c'è un po' questo dualismo all'interno della pellicola cioè l'umanità di questi due personaggi contrapposta possiamo dire la disumanità del mondo dello spettacolo che ti vuole vedere sempre in forma ti vuole vedere sempre vitale ti vuole vedere sempre allegro quando invece magari tu avresti veramente bisogno di smettere e Hardy decide di fare quest'ultimo sforzo decide di accontentare il pubblico e di accontentare comunque anche se stesso e Laurel il quale non è più disposto ad andare avanti senza senza olio non è non è disposto a commettere lo stesso errore che che è stato fatto all'epoca del film Zenobia il film con l'elefante che insomma è stato il motivo di di screzzi di litigi fra i due e appunto dicevo della fotografia che mette in evidenza queste 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 gocce di sudore ad un certo punto quando quando c'è questa 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 pirouetta quando c'è questo questo balletto vediamo proprio le gocce di sudore che cadono e che catturano la luce e e i riflettori che sono davanti ai personaggi il pubblico che è un'immensa massa nera che quasi che quasi è indistinguibile insomma veramente anche lì un'altra scena costruita perfettamente con una fotografia che riesce a mettere in evidenza anche l'espressione di malcelata sofferenza nel volto di di Oliver ma anche in realtà nel volto di di Stan Laurel perché comunque anche lui insomma soffre per per il suo amico che insomma chiaramente sta avviandosi ormai alla fase conclusiva della sua della sua vita quindi un film veramente molto molto bello che a me ha catturato sin dai primi istanti e che mi ha veramente riempito riempito di di sentimenti contrastanti ma comunque bellissimi credo che questo sia un film che merita di essere di essere sostenuto mi mette un po' tristezza qui forse dirò una cosa un po' impopolare però insomma mi mette un po' tristezza pensare che questo biopic abbia ricevuto poco riscontro in termini di incassi da parte del pubblico la critica ne ha parlato ne ha parlato bene invece però il pubblico purtroppo non è andato nelle sale a vederlo è stato un flop mentre invece in massa il pubblico è andato a vedere un biopic che vale ma nemmeno il dito mignolo di questo film ovvero Bohemian Rhapsody questo è un film biografico che è realizzato con grande amore con grande affetto nei confronti del cinema nei confronti dello spettacolo nei confronti soprattutto di questi personaggi e non è un film ruffiano non è assolutamente un film ruffiano quindi questo è un ulteriore punto in più per questo Stanley Olio che veramente merita di essere visto se avete la possibilità di vederlo andate immediatamente nella sala più vicina guardatevelo godetelo perché questo è un omaggio al cinema un omaggio a degli artisti irripetibili che veramente se siete appassionati se siete insomma come me legati comunque affettivamente a questi due buontemponi insomma non potete perderlo e poi insomma poi alla fine c'è anche questo quest'ultimo grandico questo è proprio un atto di amore meraviglioso è la magia del cinema il momento in cui i due personaggi Stan e Oliver immaginano il loro film il film su Robin Hood è un film che non è mai stato realizzato ma all'interno di questo film alcune scene sono state appunto create realizzate e quindi in un certo senso il sogno l'ultimo sogno di questi due grandissimi artisti può dirsi in un certo senso realizzato comunque qualcosa noi lo possiamo vedere qualcosa che non si è mai visto appunto ma il cinema ti dà la possibilità di vedere anche l'impossibile quindi ribadisco andatelo a vedere e niente fatemi sapere cosa ne pensate io vi ringrazio per avermi seguito fino a questo momento iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto è tardissimo vado a dormire buonanotte a tutti ci vediamo al prossimo video ciao